Non facciamoci prendere Non facciamoci prendere un po' troppo dall'euforia, per come la vedo io era normale scontato vincere contro il Bologna anche perché è stata una partita che è incominciata con tantissima densità al centrocampo, c'era un Inter poi all'inizio stava rallentando parecchio gioco, Bologna che ha due occasioni da gol Ma per come era forte l'Inter ieri sera secondo me, infatti è andata sotto e poi gli erano fatti sei, non sarebbe stato un problema qualora Barro avesse fatto gol E poi c'è quel gol di Dzeko che toglie la pressione, toglie tutta la paura che si stava creando anche perché Bologna attaccava con tantissimi uomini E Piva l'area, la nostra area, con tantissimi uomini Però in queste partite qui noi non abbiamo problemi ragazzi, i problemi nascono quando incomincio a trovare le squadre più forti, le squadre più strutturate Un'Atalanta potrebbe rearci dei problemi, hanno perso, ha messo molte riserve Casperini Vediamo prima dell'inizio del Mondiale perché se non sbaglio fra dieci giorni incomincio il Mondiale Vediamo se questa squadra con l'Atalanta riesce a fare qualcosa di buono Anche perché io vi ricordo sempre che i pareggi ormai nella situazione in cui siamo, anche se nella zona Champions ci siamo tornati Ma un pareggio comunque equivale a una sconfitta perché tanto il Napoli andrà a palla sicuramente fino all'ultima partita Poi bisogna vedere anche dopo il Mondiale, in che condizioni tornano i giocatori, soprattutto mentale, che condizioni fisiche Quindi potrebbe un attimino, capito, il Mondiale potrebbe un attimino pareggiare tutti i parametri Un po' come quando entra Safety Car nella Formula 1, che ripartono un po' tutti nella stessa posizione, soprattutto le prime Non si sa mai Sulla partita di ieri cosa ti devo dire? Sulla partita di ieri io ti posso dire una cosa Ti posso dire che Di Marco, l'ho sempre detto e vedo che incominciate a pensarla come me e mi fa piacere Di Marco lo vedo più come una mezzala di inserimento che come un esterno tutta fascia Ha un piede eccezionale, ragazzo, però secondo me non ha le caratteristiche per fare tutta fascia Soprattutto quando si alza il livello dell'avversario e soprattutto quando sugli esterni gli avversari hanno dei giocatori importanti Che ti mettono sempre in difficoltà e che cercano sempre l'uno contro uno Quindi cosa ho visto? Ho visto Skignal sul pezzo, si vede che comunque a livello contrattuale lo stanno mettendo a posto Si vede dei giocatori più tranquilli Acerbi a me continua a non piacermi come giocatore perché Acerbi, ve lo ripeto, non è assolutamente un giocatore da Inter Mentre questo allenatore lo vede titolare perché Inzaghi lo vede titolare Acerbi, a me non piace, non è mai piaciuto e ti ripeto, non c'entra nulla La risatina nel gol di Milan-Lazio, non me ne frega nulla Acerbi non potrà mai essere un giocatore da Inter Mai E cosa dire poi? Ora te lo dico io, cosa dire? Voglio parlare della partita di ieri, tanto ragazzi Bisognava vincere la Inter-Bologna Volevi pareggiare o perdere anche ieri Cioè, no, non scherziamo Vediamo con l'Atalanta, come ho detto prima Lukaku Lukaku Allora, io ti dico una cosa su Lukaku abbastanza forte Siamo sempre lì Io già da oggi E guarda Dietro, ora c'è la sedia, non si vede Dietro Ve lo ricordo sempre C'è la sua maglietta firmata Quindi è stato uno dei miei giocatori preferiti Io Lukaku già da oggi non lo riscatterei Anche se nel giorno di ritorno mi fa 10, 12, 13 gol Io non lo riscatterei Perché c'è una sciatrice di mezzo Stesso problema di Gosens Gosens ha visto Ieri cercava il gol Si spingeva solo in avanti Non pensava più alla fase difensiva Sono gol dal 5 al 6 a 0 Sono i gol del ballerino, no? Il ballerino ti fa il gol dal 2 al 3 a 0 Quando quei 4 gol che ti fa il ballerino Spesso non contano nulla Gosens ieri uguale Anche perché non stava andando bene in campo Non si occupava minimamente della fase difensiva Negli inserimenti è bravo E ha fatto gol anche lui Però c'è una sciatrice di mezzo Il stesso problema che a Gosens Che gli si infiamma questa sciatrice E Lukaku ha un problema non simile Ma anche lui ha questa sciatrice Che si infiamma Giocatore di 30 anni Che dell'esplosività Come Gosens ne fa la sua arma Migliore tecnicamente Se abbiamo tutti E non è un mosso Ti dirò di più Per come la vedo io Attenzione Non ti dico che sia giusto O che io non sono così presuntuoso A dire no Se te lo dico io È la verità Fammi capire Lukaku Fammi capire una cosa E io te lo dico da persona che ti vuole bene Cioè Te sei costato 50.000 euro in minuto All'Inter Sei centramanti Guadagna più di tutti in Italia Grazie Zang Sei centramanti Guadagna più di tutti in Italia L'Inter L'Inter ha dovuto mettere La dignità da parte Perché questa Questa specie di proprietà Squattrinata E se ne sta andando Finalmente Non poteva prendere Altro che prestiti Nonostante tutto Tra ingaggio L'ordo Prestito L'operazione Lukaku È costata 25 milioni Te non hai giocato Un cavolo E stai pensando Di andare ai mondiali Romelu Sei lì con Martinez Che stai pensando Di come fare Per andare ai mondiali Ora te pensa A un tifoso dell'Inter Che ti vede fare i mondiali Dopo sei mesi Che sei fermo Ti sembra rispettoso Verso i tifosi dell'Inter Romelu Perché te proverai In tutti i modi All'andare ai mondiali Io non ti dico E non te ne deve fregare nulla Ma un po' di rispetto Anche per I tifosi dell'Inter Romelu Ragazzi C'è travanti di 30 anni L'esplosività È la sua arma migliore Deve trovare Un allenatore Che impronta il gioco Quasi tutto su di lui In più deve avere Uno che fisicamente Non è che lo prepara Uno che lo deve tenere A stecchetto Non tutti i contesti Sono adatti per Lukaku E secondo me Il contesto Di questa Inter qui Ma anche di un'Inter futura Che sarà più forte Non può essere più Il contesto giusto Per Romelu Lukaku Quindi Io ti dico Il giorno di ritorno Può fare anche 15 gol Io ad oggi Romelu Lukaku Non l'ho riscatto Ti dico come la penso Questa storia del mondiale Mi sta parecchie sulle palle Perché lui voglia A tutti i modi Cercare di fare il mondiale Perché ti paga l'Inter Non ti paga il Belgio A me del Belgio Non me ne frega una sega Lukaku Te In questo mese del mondiale Dovresti curarti Dimagrire Allenarti 6-7 ore al giorno Non pensare al mondiale Perché a noi Del Belgio Non ce ne frega una sega Caro Lukaku Già Ti abbiamo raccolto Nel migliore Ti abbiamo ripreso Nel migliore dei modi Dopo che ci avevi fatto salutare Da Pastorello E che al Celsi Baciava Vilo Scudetto Se no Ora Tutto ha un limite Carlo Romelu Comunque fai come ti pare Non ci sono problemi Anche perché all'Inter Molti giocatori Per molto meno Sono stati massarrati Io non voglio Inbogliare le persone A criticare Lukaku Nel mio piccolo Ci mancherebbe Ma tanti giocatori Per molto meno Sono stati Massarrati Fischiati Per quello Riguarda poi Brozovic C'è la Noglu Sì Gioco offensivo Perdi Tra C'è la Noglu E Brozovic Hai perso Gli avversari hanno perso Dei punti di riferimento Ma non c'è solamente Il gioco offensivo L'Inter Ha preso 20 gol Dove vuoi andare Preso gol anche ieri Ha rischiato Ragazzi Ieri ha rischiato Di prendere altri due gol E uno l'hai preso Cioè La difesa fa acqua Cerbi Mania Deve andare a giocare A Poggi Monzi A Cerbi Mania In un Inter forte Nell'Inter cinese Se ne sta andando Con il piattino in mano Puoi altro Che avere a Cerbi E tutti i giocatori A scadenza Che comunque Ora piano piano Rinnoveranno Brozovic C'è la Noglu Non puoi pensare solo Al gioco offensivo Nel calcio è importante Anche Come si occupano Gli spazi E Brozovic Occupa gli spazi Meglio di C'è la Noglu Per chi quasi Parlo per chi quasi Voleva Brozovic Pacchina E Ceranoglu Titolare E poi Oltre al discorso Di gioco offensivo C'è anche La copertura Delle linee di passaggio Che Brozovic È un maestro In confronto a Ceranoglu Sono due giocatori Brozovic E Ceranoglu Che possono tranquillamente Giocare insieme Ma uno fa la mezzala E uno fa il play Brozovic fa il play E Ceranoglu Fa la mezzala Anche perché Signori Brozovic Non ha più il passo Per fare la mezzala Ormai l'ha perso Mentre C'è la Noglu Ha il pass Per fare la mezzala Per fare il play E a mio avviso Per fare anche Il trequartista Anche ieri Per dirti No Ora io voglio Spaccare i capelli In quattro E essere polemico Anche ieri Vinci quattro E a zero Prova a cambiare modulo Prova venti minuti A giocare No invece lui Sempre uguale Boom boom Tre cinque due Tre cinque due Tre cinque due Non può essere mai Un allenatore da Inter Simone Zaghi Te lo dico dopo una vittoria Di sei a uno È facile dirlo dopo Le sconfitte In Zaghi Non sarà mai Un allenatore Da Inter Mai Perché tatticamente Non è che è limitato Di più Oltre il discorso caratteriale Che ha Vinci quattro Cinque a zero Cambia Prova a che cosa Prova a ne so Prova a stare a quattro Dietro Prova a Fai un quattro due Tre uno Prova qualcosa di nuovo Che ti può tornare utile In futuro Lui no Boom boom Tre cinque due Fino hai sei a uno Esci attaccante E t'attaccante Esce da Entra Bellanova Tutta roba scolastica Vista e rivista Comunque Bisognava vincere E abbiamo vinto Ammetti di la verità Te lo ripeto Lukaku Non mi sta piacendo L'atteggiamento È una roba mia Personale Non ti dico Che chi è giusta Ti dico quello Che penso io Poi Prendi la te E valuta la te Come faceva Spalletti Petto Petto Lo ricordi su D'Ambrosio Quando Fischiano rigore D'Ambrosio Luciano Petto Petto Lukaku non mi sta piacendo E io Ti dico la verità Riscattare Lukaku A sessanta Settanta milioni Il prossimo anno È una roba impensabile Quindi Lukaku Secondo me E te lo dico Te lo ripeto Guarda lì dietro Te lo dico Volendogli bene Lukaku Nel girone di ritorno Si deve guadagnare Tutti i soldi Che sta dando l'Inter Fare almeno Una decina di gol Per poi A fine anno Per come la vedo io Tornare al Chelsea Perché l'Inter Ha bisogno di altri Giocatori Giocatori Su cui Si possa puntare Ma te vuoi riscattare Un giocatore Assaltato tutti i giorni D'andata Ma sei matto Non si parla di Ventimilioni Si parla di Sessanta Settanta milioni Otto Nove milioni Di ingaggio Oh Ma siamo matti Matti Ho la nuova proprietà Non è che questi Arrivano Tu Tieni Ducento Trecento Ragazzi Vediamo L'Atalanta Di Gasper Sonora Vediamo Con l'Atalanta Di Gasper Perché Stavo a passare Dalla Juve Poi si è abbassato Il livello Il Bologna Ora si rialza Con l'Atalanta Io l'ho vista Atalanta Napoli Napoli ha vinto Non ha vinto facile Con l'Atalanta Napoli Per vincere l'Atalanta Ha dovuto fare Una partita Con la P maiuscola Ma anche l'Atalanta Va a mille Vanno a mille E Gasper Se c'è una partita Durante l'anno Ricordatelo Gasperini Quei gobbo maledetto Se c'è una partita Durante l'anno Che vuole vincere E quella contro di noi E lo sappiamo tutti Ha messo anche le riserve Si è giocato Anche tre punti Tanto c'è una zona Di classifica Tranquilla Si è giocato Le riserve Si è giocato i tre punti Perché Ci vuole far passare Le piene dell'inferno Ragazzi Io ve lo dico Domenico Ciao Inter